In Giappone siamo molto orgogliosi, lo sottolineava ieri durante il convegno, del nostro senso di solidarietà, solidarietà proprio umana nei confronti del prossimo, quindi la capacità di sostenerci reciprocamente. Come esempio di questa solidarietà portata all'estremo viene citato il caso della ballata di Narayama, in cui si narra la storia di un villaggio estremamente povero, in cui i mezzi di sostistenza persino venivano a mancare, quindi non c'era il cibo sufficiente per sfamare i figli, in cui un anziano, a simboleggiare questo senso di solidarietà, chiede l'aiuto dei giovani nonostante tutto per andare a morire, andare a morire sulle montagne e i giovani appunto comunque lo sostengono, lo portano, gli dice questo significato è noto a tutti in Giappone perché è appunto una storia portata all'estremo di sacrificio e di suicidio, però simboleggia anche la capacità di sostenersi anche in un momento così estremo e così critico come la decisione della morte.